Ciao, sono Camilla Pozzi. L'anno prossimo voglio tornare a divertirmi con la mia squadra perché l'anno prossimo spacco. Io sono Giuliane Buloni e il mio obiettivo di quest'anno è quello di essere meno istintiva e di mettere in casa ragione. Io sono Anna Nebuloni e il mio obiettivo è quello di essere più sicura e più decisiva. Ciao, sono Giuliana Lavalli e l'anno prossimo voglio divertirmi, imparare e giocare a balla canestro. Sono Rosan Di Lai, il mio obiettivo per l'anno prossimo è migliorare in campo la tecnica e le attività.